Io non pubblico da tantissimo, veramente tantissimo, scusatemi ragazzi, però non ho mai tempo Però oggi, visto che ho qualcosa mia, uno speciale, farò un video con lei Cioè, ciao Chloe, allora, adesso vi spiego un attimo come abbiamo deciso Allora, visto che io, questa sono, allora, mannaccia, sei bugato il mondo Allora, mannaccia, mannaccina, sei bugato tutto Tutto Si è bugato il mondo, raga, aspettate un attimo Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, perfetto No, si è ribugato No, ok, perfetto Ma fai schifo, vabbè Ce l'ho fatta Allora, si è bugato tutto il mondo, raga, vabbè Quella con il cappellino sono io e quella invece con la fascetta è Chloe Ciao Visto che noi viviamo in questo stello perché noi in realtà dovremmo, cioè noi in realtà siamo a scuola Praticamente tutti i giorni però abbiamo questa casa per il weekend E quindi, niente, visto che oggi è il primo giorno di vacanza Esattamente Non nella realtà però nel gioco È il primo giorno di vacanza, adesso andremo nella nostra casa al mare Andremo in aeroporto e quindi andiamo al mare Ci vediamo quando siamo direttamente là in aeroporto Ok ragazzi, siamo appena arrivati, abbiamo Ci siamo fatti aiutare dai nostri genitori perché Se no, facciamo un casino che abbiamo un botto di bagagli Sì E adesso andiamo ad appoggiarli tutti che oggi sono tantissimo Allora Perfetto I passaporti li abbiamo fatti vedere Allora Allora, ok Perfetto Allora mi chitiamo su tutti i bagagli Allora Dopo di questo, vai, vai Butta su tutto, butta su tutto No, qua dentro, no, che cavolo sto facendo Ok, la prima valigia è arrivata Seconda valigia è arrivata Terza valigia è arrivata Oh, sono arrivate? Sono tutte arrivate? No No Ok, ecco, ho fatto Ok Ok, i tuoi occhiali Allora, perfetto Ci abbiamo tutto Allora Perché c'è questo? Non è il nostro anzio Poggiala Allora Possiamo Ah, eccola Uh, ok Non è arrivata la mia valigia Ups Allora, ah, ok Ecco perché mancava un bagaglio Mi sembrava Mi sembrava strano Sì, lo vedete tutte? Sì, allora Mi muovete? Oddio, sì Sennò perdiamo Guarda che bello questo Perdiamo l'aereo Ok, dai Veloce, veloce, veloce Ok Dateci le valigie Ok Signori, i contratti Sì Non abbiamo già fatto tutti i contratti Allora Salite? Sì, ok Allora Aspettate che saliamo con voi Allora Tutte le vostre cose Ve le appoggiamo qua Sì, appunto Allora Volà, 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 volà Va beh, Mario Ok, perfetto Chloe Sempre di spiritosa Oddio Mi sei boccato il mondo Ok Sì, che c'è Allora Perfetto Stiamo occupato Tutte le cose Che bello Che bello Vabbè, allora Ok, ci siamo Ok, perfetto Allora Ciao Ciao mamma Ciao papà Ciao Ciao Allora Mario Perfetto Andiamo a sederci al nostro posto Sì, andiamo Che bello Tanto l'aereo è fighissimo C'è Grandissimo Vabbè, ragazzi Noi aspettiamo che parta L'aereo E viaggiorniamo Quando arriviamo Julie, prego fame Allora Siamo a metà viaggio Metà viaggio Che cavolo fa Appunto Lei aveva fame E ha già finito Ci hanno spostato di posto Perché avevamo sbagliato Sì E quindi ci hanno spostato E quindi vi aggiorniamo Quando siamo arrivati Siamo praticamente Tipo a metà viaggio Una cosa del genere Sì Quanto manca? In teoria dovrebbe mancare Mezz'ora Perché in teoria Ci mettiamo un'orea Ad arrivare fino alla E quindi Niente Aspettiamo Ok ragazzi Siamo arrivati Allora in teoria Qua dovrebbe Aspettarci Non lo so Non mi ricordo Vabbè Solo chiediamo il tipo Che magari ci sarà arrivato Ragazzi Sono venuti a prenderci Alice e Francesca Siamo super felici Perché Da sole Non saremmo riusciti A trasportare tutto E adesso Visto che Ci metteremo Un po' Ad arrivare a casa Vi facciamo direttamente Vedere Quando arriviamo A casa Sì perché Sennò sarebbe Troppo lunga Siamo arrivati Mi dispiace Non vi abbiamo Ci sono dimenticati Di registrare Però vabbè Ce la potete intuire Un attimo Come è la casa Adesso Vi facciamo Un attimo Vedere Allora Raga Vabbè Qua Ci sono tutti I nostri vestiti Più borsoni Non riesco Ad aprire Sto cassetto Lo apre Poi Qua ci stanno I nostri zaini Quello Fatta a bosco È per me Quello invece È per Chloe E sotto Ci abbiamo messo Tutte le nostre cose Per la scuola Libri Esatto Libri Eccetera E niente Raga Poi vi farò L'home tour Della casa E niente Al prossimo video Ciao